Vengono da Sedico, Milano e Venezia i tre vincitori del concorso fotografico F-Cube dedicato al Palio di Feltre, Vincenzo Gallo, Francesco Oroldo e Francesco Daldonna. I loro scatti, selezionati tra i 70 partecipanti e premati ieri sera in Sala degli Stemi insieme a quelli dei 5 segnalati, fermano nel tempo una edizione paliesca che si chiude con un bilancio positivo sotto tutti i fronti, da quello economico a quello della soddisfazione e coesione tra quartieri e direttivo dell'associazione. In pochi avrebbero scommesso a inizio anno su risultati così positivi e realizzati quasi esclusivamente con la forza del volontariato. Difficilmente però questo potrà essere l'unico sostegno di una manifestazione che vuole crescere ed ha dimostrato una volta in più di avere le carte per farlo. Nell'attesa di capire come i soci dell'associazione Palio affronteranno la sfida, Presidente e Consiglio stanno già lavorando per l'edizione del 2020. La macchina organizzativa in realtà non si è mai fermata, siamo già al lavoro per progettare e per tirare fuori le idee che saranno i cardini dell'edizione 2020. Cosa cambierà? Ci saranno delle novità? Ma questo è ancora presto per dirlo, non vogliamo svelare la sorpresa, intanto oggi abbiamo visto i ricordi di un anno importante. La parte economica era dolente quando in primavera l'organizzazione del Palio è partita, ora a mesi di distanza. Com'è la situazione? La situazione si era già rasserenata grazie all'aiuto, all'intervento dei cinque soci, quindi quattro quartieri Castello, Duomo, Portori e Santo Stefano e il Comune di Feltre. Una delle soddisfazioni più grandi di questa edizione è l'aver dimostrato anche a noi stessi che è possibile fare un Palio che sia in qualche maniera sostenibile economicamente, quindi una riprova in più che è veramente una ricchezza del territorio. Grazie. Grazie.